A seguito della dichiarazione dell'assessore Roberto Mutalipassi, esponente della lista civica Agropoli Oltre, il quale ha dichiarato di voler proseguire il percorso politico come assessore al bilancio e quindi di non seguire la volontà del gruppo Agropoli Oltre di passare all'opposizione, arriva la nota stampa dei consiglieri. Prendiamo atto del comunicato a mezzo social fatto da Roberto Mutalipassi, fanno sapere dalla lista civica il cui pensiero non è condiviso dal gruppo consigliare e sostenitori di Agropoli Oltre. Nella giornata di oggi l'assessore Mutalipassi con un post sulla sua pagina Facebook ha dichiarato mi scuso sin da ora se questa scelta deluderà le attese di chi aveva pensato condividessi strade alternative. È bene ricordare all'assessore che nel mese di novembre 2021 lo stesso Roberto Mutalipassi e i consiglieri comunali Massimo Laporta e Bruno Buffano comunicavano al sindaco la fuoriuscita dalla coalizione Coppola nel rispetto di tutti e con motivate ragioni l'intenzione di non voler partecipare alle prossime elezioni amministrative di giugno 2022. Probabilmente l'assessore non sa il significato di che cosa sia l'onestà e la coerenza politica. Invitiamo Roberto Mutalipassi a dimettersi dalla carica di assessore, sottolineano, essendo stato nominato su indicazione della lista civica Agropoli Oltre e a continuare il suo operato con una nuova nomina da parte del sindaco Adamo Coppola. Intanto Agropoli Oltre continuerà la sua azione concreta, sicuramente non per demolire ma mirando a quell'unica importante destinazione, la nostra città, concludono i consiglieri della lista civica Agropoli Oltre.